Cari amici benvenuti a nuova parte in realtà vi ho già cominciato a registrare poi di colpo ho stoppato comunque siamo al fiume e come anticipato andremo contro la Inazuma Kids Football Club sia la prima volta in un solo tempo e sia la seconda da Veteran se poi avrò voglia mi auguro di sì quindi facciamo le cose molto rapidamente sempre che Veteran ci dia un attimo un aiuto andremo a battere anche la Fizzelli così ci togliamo dalle palle sia una che l'altra questa è la squadra in realtà in questa squadra qualcuno interessante c'è a partita dal portiere che mi ha sempre fatto tenerezza poi anche Robert Silver della KFC che ricorda molto un giocatore che poi ha proprio quel cappello lì ancora non mi sfugge il nome ma c'è fino a Galaxy questo è bruttissimo poi ovviamente c'è anche Michael Riverside che sicuramente c'entra qualcosa con il fiume abbiamo Maddy Moonlight che sicuramente andremo a prendere e tutti gli altri vabbè sono giocatori messi tanto per squadra scarsissima ma non possiamo dire altro che giocare che già qui forse sbaglio qualcosa no vediamo se riusciamo a prendere il pallone e incontrarsi in diretto io penso proprio di sì appunto ci facciamo un beffe dall'avversario e tiriamo lo sto facendo non tanto per allenamento personale cioè anche ma anche perché veteran così ci togliamo il dente di fare questa fida a grado S subito dopo di questa partita ma soprattutto perché io un domani non me la sentirei di dover fare ancora questa partita che penso sia la squadra più scarsa insieme ancora alla prossima che andremo a fare da battere nel post game sempre che io arrivi a farlo ma insomma ad oggi direi di sì e quindi me la voglio proprio togliere è impensabile che io debba ancora perdere tempo un domani con queste partite assolutamente Sean purtroppo si fa fregare dall'avversario due volte perché ho spostato Sean per due volte sbagliato un po' di possesso palla stanno facendo l'importante è vincere non serve anche perché 5-0 proprio a livello di tempo non si può fare però l'importante è sbloccare la partita io direi di far segnare pure un po' Conwell ma sì tanto anche se è un giocatore che non userò mai risulta essere uno dei primi entrati in squadra seppur solo nel gioco che ci aiuterà che ci ha aiutato in realtà ad essere in un numero giusto e corretto per fare la nostra prima partita vi ricorderete gol 2-0 nessuna novità in ciò nessuna sorpresa penso che andrò a fare un altro gol e poi mi fermo ma potrei frenarmi anche qua in realtà un po' di possesso palla perché alla fine davvero non succede niente se io non se io non segno tot gol vorrei davvero avere il moltiplicatore della velocità perché è noioso guardate quanto è lento Mark me ne rendo conto solamente ora sarebbe il colmo che prendessi due gol ora ma vabbè poi Victoria fa ste cazzate si potrebbe evitare qui Sean sicuramente riesce a prendere il pallone anche se non riesce a controllarlo perché ha il volo di testa Victoria vediamo neanche riesce a controllare questo brutto male Mark Jack Bobby ci arriva Nathan Tom Conwell e direi che si può tenere anche il pallone lui per un po' finché posso no niente la palla esce non so per quale motivo forse perché la freccia del giocatore andò oltre la linea di campo sicuramente è così ma non me ne sono reto conto e che dire di cosa possiamo parlare perché pensare di dover commentare la partita che farò dopo cioè di nuovo nuovamente la Kid Football Club che rottura di palle parliamo di anime allora anime in realtà io provo a ipotizzare un'eventuale domanda perché io ho sempre detto che li guardavo però negli ultimi tempi non ho più guardato nessun anime un po' perché tra fumetti e altri interessi non ho più avuto tempo ora per dire anche in Zoom Eleven mi sta facendo perdere del tempo non me lo sto facendo passare seppure consapevolmente sono piuttosto felice di fare ciò però a parte il tempo che ormai manca preferisco spendere il tempo che guardavo in anime in drama lo sapete no in Korean drama ho guardato anche il drama cinesi giapponese tailandesi ma sono in un altro livello cioè inferiore rispetto ai coreani che secondo me sono la nuova Hollywood mondiale fanno concorrenza davvero a 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 Infatti Netflix ci sta puntando molto E quindi sto davvero Passando il mio tempo a guardare quelli Poi ovviamente leggo fumetti E quindi gli anime risultano essere Un pochino lasciati stare Ecco Però non disdegno il fatto che Vi siano comunque dei Degli anime molto meritevoli Anche se la stagione non la sto seguendo Ma neanche proprio a livello Dimensione Quindi non sapeva cosa dire L'ultimo che ho visto fu Remain Vi ricordate che avevo fatto anche un video Commento Sul primo episodio dell'anime sulla pallanuoto Ecco Dopo diversi mesi l'ho guardato Cioè a dicembre mi pare Fu l'ultimo che guardai E mi è stato comunque divertente Poi io ho fatto pallanuoto Quindi potrei vedere un anime sulla Passione adolescenziale Anche se non ero proprio Tanto preso come sport Ma perché avevo altri interessi Da bambino Insomma volevo Io volevo fare calcio in realtà E per due anni lo feci pure Stetti in porta per due anni Poi però complice I miei denti che Oh mi sono al citofono Oh oh mi sono al citofono Devo necessariamente bloccare Oh ma siete ancora qui Eh ma mi è arrivato Un pacchetto da Amazon Che non serve Anche la realtà che ve lo dica Ma perché non è nulla di interessante Che al suo interno Ci saranno delle mollette E voi direte Ma perché A Blast A Len Insomma chiamatemi come volete Siamo delle mollette Perché ora ve lo dico Tanto qui È la sagra del Del perdere tempo Io i lego E non solo i lego Quindi anche i gadget Del fumetto di Disney Con topolini usciti Li inscatono in questo modo Cioè li plastifico Con delle buste Dei surgelati Tanto guardate che carini No? Però a parte questo Io li plastifico così Perché poi un domani Quando avrò casa mia O quando avrò spazio ulteriore Quindi È una conseguenza Di quello che ho appena detto Intenderò esporli O comunque Quando avrò poi un Molto più spazio Intenderò mettere in libreria Con le classiche Libreria Dante No? Però C'è un però Fino a che non si arrivi A quel punto E ad oggi La vedo ancora lontana Io Per preservare Dalla polvere Perché il nemico numero uno Dei gadget Dei lego È la polvere Io Ho adottato questa soluzione Può essere condivisa O meno La penso così E questo In realtà È un po' il mio essere Perché anche i fumetti Io li imbusto tutti O quasi Ne vedo qualcuno Non imbustato Ma perché sono più grossi O perché sono cartonati Non serve imbustare Più di tanto secondo me Tanto qui Scemata di passaggio Amen Però a parte questo Io tendo a Inciolofanare tutto Ovviamente con buste Eccetera E poi Ora salite chiedendo Ma la moletta Cosa c'entra? Cosa serve? Eh serve Vedete Questa qui Questa clip Non ne ho comprate tantissime Però Ho dovuto ricomprarne ancora Per Per chiudere E vedete In questo caso La plastica Non è aperta Non c'è scotch Non c'è Una graffetta Ma questa piccola molletta Che posso tranquillamente Togliere Rimettere Sicuramente Che Quando finirò Quando finirò I miei obiettivi I miei obiettivi principali I miei obiettivi principali Eccetera Io mi metterò Il gioco Sull'emulatore Per Per tanti momenti Per una buona parte Del Del gameplay Perché Ecco In parisi di questo tipo Non si possono davvero fare Cioè Qui ora Probabilmente Facciamo pure 4 a 0 Non pensi Non lo so Prima ho fatto qualcosa Non me l'aspettavo Pensavo parasse Forse la pallava fuori Addirittura No Ho visto che va in porta Ma 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 La palla Andata in porta E era lì in traiettoria Poi vabbè In realtà comanda quello che vedi nel campo Ovviamente Però Che animazioni fatte male Non farla Non fammela vedere Vabbè Avrei fatto gol Ma mi è stato rubato questo gol Palesemente Vabbè Qui butto la palla In In tribuna Giusto per perdere tempo Perché tanto tempo ne abbiamo a sufficienza Poi qua scorre il tempo Tanto Ma sì Tanto ci stiamo divertendo No 3 a 0 Abbiamo ancora un tempo così Qualcuno mi chiederà O starà pensando Ma Blast Ma chi te lo fa fare Cioè perché lo fai Fai come tutti I cristiani O come te stesso hai fatto Anni fa Ti dico che c'è solo la trama E E basta E perlomeno in In video Poi Poi noi invece Sappiamo che tutti farei le partite Fuori dalla registrazione E invece no Invece no Perché io Se non registro Non gioco Sono fatto così Non ho tempo Di giocare Per cui Unisco Le due cose Ora Ho un'ora di tempo Ho fatto una parte Che già ho registrato E E questa No Quindi Gioco registrando Perché se io dovessi dire Non solo registro Che già gioco In più Fra un'ora Mi rimetto a giocare Capito Perderei Il classico detto Dubbicini con una fama Insomma Non Soprattutto non avete capito Io spero di Sto fatto così Io Personalmente Poi non in tutte le cose Perché non è che io Per esempio i fumetti Se non registro Non leggo Assolutamente Anche se Ogni cosa che leggo Principalmente Poi la vado a registrare Ma Mi sono letto Anche altre storie Magari passate Ho sfogliato libri E fumetti Che non ho avuto necessità Di doverli Poi Recensire O O registrare Perché l'ho fatto Per il mio passatempo Ma quello è un altro discorso Infatti Però Con Inazuma Eleven È così Tra l'altro In questo momento È mezzogiorno Quindi Facciamo un attimo Un rapido calcolo La parte durerà ancora Un buon quarto d'ora Sicuramente Forse anche di più Un buon 20 minuti Insomma Ho il mio da fare Dopo Dopo queste Due Partite Inutili Scarse Che tra l'altro Danno anche pochissimi punti Esperienza Però Però voi pensate Di doverle fare Quando Quando avrò Il Quando avrò la squadra A livello 90 Dover battere Questi scappati di casa Sti bambinetti Insomma Sarebbe una preta Per il culo Allucinante E dunque 6 6 a 0 Ma non mi aspettavo Di diverso Mi aspettavo però Una parita un pochino più Qualche colpo di scena Cosa che per fortuna Non c'è stata Però da un lato Dico Boh Che palle Però sono le ultime Vi giuro Una Zuma Kids Football Club E la Street Selly Che tra l'altro Non so neanche dove si possa Prendere Ma andare A battere Ma Lo vedremo Perché al massimo Cerco su internet In diretta E Poi basta Poi vi posso garantire Che dopo Questa Carrellata Di amichevoli Io andrò avanti Con la trama Fino alla fine Volevo fare solamente Guarda queste due Al massimo Non alla peggio Ma al massimo Potrei anche fare Ancora L'Otaku Perché L'Otaku E l'ultima partita Mi pare Prima Del Football Frontiera Fase Eliminazione Insomma Quando vi erano ancora Le prime partite Vi erano La Wild La Occult La Brainwashing E l'Otaku Le prime quattro Poi le altre Cominciano a farti un pochino Più interessanti Quindi forse potrei fare Ancora anche l'Otaku Non in questa parte Ovviamente Ma Successivamente Però Non lo so Al massimo quella Ecco Non di più Dovrei fare anche la Gemini Che sarebbe già più interessante Perché farla Gemini Vuol dire Avere la possibilità Di reclutare Janus Reclutare tutti gli alieni Che mi interessano Di quella squadra Tipo Diam Che mi han detto Qualcuno mi ha Più volte detto In privato O anche nel gruppo Che gestisco Nella Zoom Eleven Rival Che Diam Nella Zoom Eleven 2 E' piuttosto forte Però è un attaccante Io cosa me ne faccio Cioè voi dovete immaginare Che gli attaccanti Sono già Piuttosto incasellati Anzi Ce ne sarà qualcuno Che mi dispacerà Non metterlo Però Tra Sean Bion Love Xavier Witz E Kevin E sono finiti Gli spazi Perché 5 attaccanti Vuol dire 3 in campo 2 in riserva E' finito Quindi Non so Sto pensando che ci possa essere Ci sono ancora Un sacco di attaccanti Potenzialmente Ma Sono questi Un po' i miei pupilli Che vorrei avere 7 a 0 Otteniamo gli scarpini Spero che Ecco La cosa che io mi auguro E che io non debba E che io non debba E che io non debba tornare A fare questa partita Non solamente Batterla Una volta Ma più di una Ma più di una Ora Qui se l'ho già visti Schippo la sfida E niente Mi hanno sentito Uh c'è Lovelace Lovelace È una giocatrice interessante Su Galaxy È una top rank Quindi Non pensavo Ma Esiste già Nel Zoom Eleven 2 Mi pare proprio Che L'ha misi In mix A Trina Su Galaxy Trina mix Lovelace Interessante Questa cosa qui Non ci avremmo Non l'avrei mai detto Poi Un personaggio Un po' la qualunque Sì Questo chi è Modugna La modugna Faccio così E se vedo una sfida Che non c'è nessun di nuovo Non la gioco Via No c'è Schoppel Modugna Eh Sono fatto Un po' strano Mi hanno montato Al contrario Come videogiocatore Perché io Fossi un videogiocatore Normale Come tanti voi Che mi seguono Probabilmente Non si metterebbero A fare queste sfide Poi addirittura Capite no Addirittura Perdere tempo Guarda guarda qui Guarda qui Guarda qui Che addirittura Potrei Oddio 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 Imbarazzante Situazione Che si è venuta A creare Stai calmo Blast Stai calmo No Non merita E ho perso anche Punti passione e carisma Che io ho sudato Per avere quei punti lì Se io veramente Sudo Per avere i punti passione E i punti carisma In questo gioco E li perdo In questo modo Dove cazzo È la strizzelli Ora mi arrabbio Mi inaltero Dove Cazzo È la strizzelli Perché non la trovo È in quel vicolo Non ci ha fatto caso È l'unico personaggio In effetti Che non ho visto bene No Madonna Ragazzi Prega Per noi Allora Andiamo sul nostro sito Watashiwa Perché è lì che Troviamo Le friendly match Street No ma non è possibile Guarda Io sono veramente Incazzato Quando succede così Dov'è Frizzelli Samantha Sta aspettando Al Socherfield Ne shopping area Ma dov'è Il Socherfield Chi c'è mai stato qua Cioè mi pare Che non ci sia ancora mai stato O forse sì Ma non mi ricordo Cioè Al campo da calcio Al centro Che è dal vicolo Qui se non vado errato Vabbè E qui guarda Altri giocatori Che non conosco In realtà Come ho già detto Più volte Io presumo Che Anche Se io Dovessi Schippare la sfida Automaticamente Il giocatore Si registra O la giocatrice Si registra Nella propria Nel proprio album Ma io sono fatto così Sono strano No Sono una persona Un po' Contraddittoria a volte Quindi Voglio fare ciò Voglio poterli vedere In campo I giocatori Perché metti Che mi piacciono Metti che hanno Una tecnica speciale Particolare E io non lo posso sapere Fino a che non li sfida A meno una volta Ma io penso Di esserci mai stato Ad oggi Qui dentro Perché è proprio La prima volta In Azumel Event 2 Perlomeno Vieni qua Eccoti Samantha Ora vediamo La tua spettacolare Squadra Come direbbe Marco Togni Spettacularis Ora Ora Veramente voglio vedere Sì ma È proprio La prima volta Anche perché Questa animazione Del centro Significa che Non abbiamo mai visto Questo campo da calcio Ecco qui La street Sally's Cioè La strada di Sally E Sally Però non ho idea Questa qua è Samanta Questa Samanta è carina Voglio essere sincero Però mi sa che è portiere Quindi che me ne faccio Non lo so Non è portiere È attaccante Ma che cazzo Me ne faccio Che dall'attaccante Non lo so Madonna Cosa vedo Dio Cristo Temi Fielding Però almeno Ragazzi La squadra è a livello 21 Bello Sto Sheldon Mi piace Sapete È a livello 21 Perché comunque Si sblocca solamente Col centro Dopo aver battuto La brainwashing Quindi c'è un po' di Di sensato In tutto ciò Però Però Non mi aspettavo Se è a livello così alto Almeno Qualche punto di esperienza in più Sia ora che dopo Lo otteniamo Rispetto al football club Che avrei forse dovuto Battere prima Ora mi viene in mente L'idea Il consiglio che vi do È di battere prima La squadra di Meddi Perché vedete Voi risulta essere Troppo Anacronistico Andare a batterla Quando ormai Non serve più Probabilmente serviva prima Un po' per allenamento personale Tanto già un fall L'abbiamo fatto Ma speriamo che siano Gli ultimi Della 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 gara Conwell ci arriva E arriva anche a tirare Non so come E Sì Tacco acrobatico Tanto una vale l'altra Io penso in realtà Che mi Mi para Questa Questa Yuma Perché il tiro È un po' Da lunga distanza Mega parata di forza Potrebbe tranquillamente Pararmi E invece no LOL Però Samantha Mi sa che lo andrò a reclutare Molto probabilmente Perché comunque L'ho sempre detto I capitani delle varie squadre O un po' I giocatori simbolo Anche se non mi piacciono Li andrò a prendere Come Maddy Per esempio Quindi Boh Molto probabilmente La prenderò Poi Simpatica Una faccia Che non Non mi disturba Tanto Ora Ipotechiamo Almeno anche Il prossimo gol Se ci arriva Il pallone Sei un grande Sean Sei un grande Pezzo di merda Vabbè Non è colpato È colpa di Talisman Che ci ha passato la palla In maniera Un po' Troppo lunga Tanto Conwell Vuole fare un po' L'NVP Della giornata E ci riesce Ricoprendo per questo pallone E andando alla caccia Del suo secondo gol personale Ma è danatamente Lento I giocatori miei Sono molto lenti Ma ancora una volta Passa Conwell Incredibilmente Si fa beff Dell'avversario E un altro Tacco acrobatico Vediamo se gli riesce Come la prima volta Contro Yuma Che se fa la stessa mossa E se non ha fortuna Dovrei riuscire a segnare E sempre che la palla Non va di fuori Attenzione però Ma io del guardiano Ce ne seguiamo altamente La palla Entra in rete 2-0 Ma Conwell Mi sta dando soddisfazioni Perché Per quanto sia Il giocatore Della mappa contatti Il primo Che deve forza avere Il primo che poi togli In teoria In realtà io già Per esempio Preferisco Conwell A Edmond E Willy Per esempio Che è già qualcosa Perché magari Qualcuno Utilizzerebbe Edmond In queste situazioni Se fosse accorto Di attaccanti Vai Talisman Che so che ci arrivi Bravo Però io invece Mi sono ostinato A utilizzare Conwell E anzi A tal punto Da volergli fare A fare una tripletta Che possa diventare Un attaccante Della mia squadra Futura Conwell Non lo so Non lo so perché Mi sono rimasto Come di appassionato A Conwell Eugene Conwell Però Ha sempre fatto Il suo dovere Per quanto Per quanto Non mi aspettavo Nulla da lui Perché Un po' A pregiudizio Che fosse E va bene In questo caso Un furore C'è qualcosa da fare Un po' A pregiudizio Che fosse Il primo giocatore Che è il primo Che poi andrà via Insomma Serve solo a fare Numero Ma Come fuori gioco Vabbè Non me l'aspettavo Sono sincero Ma quanti fuori gioco Ho fatto nella mia vita Non lo so Ma probabilmente C'è la statistica Forse no O qualcuno di voi Li sta contando Io no Ma tanti Non già fatti E dicevo Per quanto Ci siamo proprio Dito che Conwell Sia il primo Che è arrivato Il primo ad andarsene Lo sto invece tenendo Poi Non è granché Ma No Però guardate Guardate come Mi soddisferà Conwell Guardate Guardate Eh Vedete Cioè Pure Un avversario Col furore Riesce a battere Conwell Dai però Se lo merita Un altro gol Se lo merita tutto La tripletta È tutta tua Caro mio Anche se avrebbe senso Far giocare Sean Farti dare a lui Per allenargli La tecnica Ma ogni tanto È giusto anche Trasgredire un po' Le regole personali No Per quanto Io ami Sean Ci sarà Ancora altre migliaia di volte Disposizioni per segnare Conwell Chissà Magari È la sua prima Ultima tripletta Quindi io l'ho voluta Far segnare Anche In suo ringraziamento Perché senza di Conwell Non si giocava Non eravamo in undici Bisogna ringraziarlo Bene Un elogio a Eugene Conwell In questa Ennesima partita 23 a 0 E che ora andremo a ripetere Divisa e guantino Ecco per esempio La football club Dei bambini La divisa Me l'ha data Boh Speriamo di sì Cosa volevo vedere Ah si Voglio vedere se ci fossero Anche I record Sui fuorigioco Ma no Quanti gol ha fatto Conwell 7 Ne ha fatto i tre solamente Oggi Per dire Poi purtroppo Mi ha tolto Kevin Guardate Manca il capocannoniere Che sarebbe ancora lui Comunque Proprio me l'ha Me l'ha eliminato Si vede che se io Ora dovessi Per qualche motivo Liberare Un po' come i pokemon Conwell Eh Mi ritroverei a Non avere più I suoi I suoi gol Sicuramente Caro veteran Sono tornato da te Per la seconda volta In poco tempo Perché Voglio Bata Sizzelli Tra l'altro per la prima volta Potremmo anche terminare Il Il ramo Di qua Chissà Io vorrei Ecco Non vorrei Tecniche Anche se Da un lato Non mi dispiacerebbero Ma Ciò che davvero Mi interesserebbe È Punti passione E punti carisma Comunque Vediamo un po' Come mi sento Perché qualora Io avessi ancora voglia Dopo questa partita Potrei andare A reclutare In maniera seria Sia Meddi Che Samantha Vediamo un po' Come mi sento Anche perché Il tempo scorro Da andare ancora A fare la spesa Perché altrimenti Non mangio Già pranzo Io ogni tanto Devo pensare Anche a me stesso Volevo andare in galce Ma non ce la farò mai Nella vita Devo andare a recuperare Il pacchetto Perché in realtà Il pacchetto Delle mie mollette Che parlavo prima È giù che mi aspetta Non è manco Arrivato in casa Perché ormai Corriere da quando Hanno il covid Da quando Vi è questa pandemia Non vengono più su Non ci vengono più su Ma neanche Se glielo dici Eh loro ti dicono Lo metti in un ascensore Eh sì Oppure in questo caso Altrimenti L'avrei già preso Mettilo Nella cassetta Delle poste Perché Altrimenti Non ci vengono Hanno la scusa Di non venirci Eh vabbè Mi ricorda molto Jude Dall'animazione In piccolo Questo River Song Poi nulla che vedere È il nonno Di Jude Probabilmente L'idea è anche quella Tanto Sean Vuole subito Mettersi in mostra Forse con un altro gol E dai Non ci puoi Non arrivare Cioè ma vi rendete conto Ma non ci posso credere Mi sono passati il pallone L'un con l'altro E nessuno dei due È riuscito a tirare Alla fine Affangulo Vai Tomb Credo in te Tomb No Tomb è deludente Perché non ha Mosse all'infuori Della sua Avviluppo d'ombre Che ha da quando L'ho reclutato E che non ho mai più visto Mai utilizzato dall'altro Perché non ho mai la possibilità È difficile che io Con Tomb Faccia un contrasto Offensivo Cioè in generale Non li ho fatto quasi mai E qui Conwell Ancora una volta Sfodera Il fruttoco acrobatico No ma comunque Non lo terrò probabilmente Però Diciamo che in lizza Per la seconda squadra Sempre qualora Dovesse esistere Ci potrebbe stare Sicuramente Anche perché Io lo dico sempre Sono molti gli attaccanti Interessanti Per dire C'è anche Cagnone Sion C'è anche Nakata Ecco Dimenticavo Nakata Nakata Deve essere in squadra Ma chi torgo C'è Trashone C'è chi mi chiama Ma adesso io non posso No devo Perché mia mamma Lolle Vabbè Tanto mi muto Eccomi Bentornato Abbiamo Finito il primo tempo Nel frattempo Siamo 3 a 0 Vorrei ipotecare Però la vittoria Io In teoria dovrei davvero andare Quindi Si è fatta la volontà Di chi creò In Azum 11 Gioco Ovvero la level 5 È inammissibile È inammissibile Per il tutto questo tempo In realtà In cuor mio Mi sa che questa Sarà la prima volta Che edito Che mi metto A renderizzare Una parte Di questo In Azum 11 2 Perché Già troppi tagli Come avete visto Sono andato giù A prendere A prendere il pacchetto Sono andato A chiamarmi a mamma Insomma A tenere Muto il video Ora Fossi in live All'accordo Ma in video Magari Anche no Quindi Mi sa che renderizzerò In breve Questa Questa parte Ma a voi non cambia niente Solo Una cosa in più Che devo fare E il tempo mi stringe Comunque 4 a 0 Dai parliamo un po' Della partita Allora Samantha In realtà La vorrò prendere Sì sicuramente Però non so se già oggi In ogni caso Voglio fare sto cazzo Di quinto gol Perché non sapete La gioia Nel poter dire Basta Ste partite inutili Ci arrivi Conwell Ci arrivi Sei un genio Vabbè Qua errore mio Errore mio D'accordo Non c'è problema Bravo Conwell Ci arrivi? No Purtroppo no Perché tu è un gigante Della foresta Era impensabile Che potessi Vincere il contrasto Qua Sean è sua La palla è sua Io farei comunque Lo scattore repentino Perché tanto Ormai ho solamente 16 pt Abbastanza per utilizzare la mossa Ma Non di certo per segnare Un'altra volta Mentre Conwell E' un altro cazzo Di errore Ho fatto Yuma Maledetta Io ogni volta Ci provo A prendere il pallone Ma in realtà Non è possibile Dai Eric Scivolata Ok Ti faccio a T Cosa succede? Probabilmente Tiro proprio Infatti Però Ho voluto solamente provare Non l'avevo mai fatto Il tiro a lunga distanza Anche senza la mossa Quindi va bene così Talisman Non sei in fuorigioco Giusto caro mio? No Dovresti riuscire a tirare Bene Tiro dimensionale Nell'attesa che Adesso si evolva E' già tanti gol Che ho fatto con Talisman Ma Non vuole in assoluto Arrivare a A evolversi la mossa 5 a 0 Scusate il silenzio Ma Cosa devo dire di più? Ah Level up Allora Sapete una cosa Io Un elemento L'ho notato Ovvero che La mossa Si evolve O potrebbe evolversi Solo se il tiro Va A buon fine Cioè solo se Io Davvero faccio gol Perché vedete Prima di segnare Non era comparso Level up Invece di colpo Dopo aver segnato Level up E' comparso Non ci penso Ma perché purtroppo Poi in tanti giochi Nella Zoom Eleven Questa cosa cambia E' diversa Quindi Ci sono delle dinamiche Che io Faccio fatica a ricordare Se è così da sempre o meno Intanto Altra tripletta Di Eugene Conwell Questa Parte dedicata a lui In assoluto Perché è riuscito A dare il meglio di sé Insomma Si merita la maglia In questo momento La titolare Molto probabilmente Susette Dovrà un po' Conquistarsela Quella maglietta Che fra poco avrà Nella prossima parte Probabilmente Entrerà In squadra Sicuramente Vedremo un po' Tanto con questo Giro di passaggi Al volo Alla prima Vediamo se Guardate Al volo Al volo Al volo Tutto al volo Tutto alla prima Bravi ragazzi Mi piace Quando bighellonate Quando prese tempo Non mi piace Quando siete così lenti Perché Non c'è giocatore Che io riesca a essere In proporzione Più veloce Dell'avversario Vabbè 6 a 0 A mai più Frizzelli Datemi la divisa Datemi quello che dovete darmi Non mi danno niente La divisa me l'avrà andata prima Boh Ho una paura Io di dover Andare a prendere la divisa Dovendola ribattere Pazzesca Allora Non dovremmo Ricaricarci Perché non ce n'è bisogno Ma quasi quasi Dato che siamo In In tema Andrei A Prendere Sia Samanta Che Maddy Solo che devo trovarle Allora Maddy Maddy Dov'è Maddy Forca puttana Pagina non trovata Bene A Le E Un'altra pagina non trovata No niente Non Non ho già perso la voglia Basta Non Non ne ho voglia Magari nei commenti Se mi aiutate a dire Dove si trova Sia Maddy Che Samantha Perché io penso Che ora Posso anche ingaggiarle Se non vado errato Vediamo Ecco appunto Vedete Però Non ne ho voglia Adesso Magari Però Gemini Storm C'era già La posso già Ancotenere Ah Prima di finire Andiamo a vedere Questo scrigno Vediamo Prelibato Evitabile E il super Super tecnica Super tecnica Ma è L'extra Che Penso io O O è Una roba diversa In questo gioco Vediamo Che cavolo Questo devo scoprirlo Ora Ecco Ah Vabbè Per vedere le tecniche Però Devo Devo andare Da quell'altro Lì Maledetto E non posso Manco vedere Le tecniche Incredibile Vabbè Vabbè Ragazzi Per oggi È tutto Ci vediamo Alla prossima Parti Nei commenti Se mi aiutate A trovare Mehdi E Samantha Potrei poi Andare a prendere Un domani Ciao ragazzi Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima